18 associazioni siciliane lanciano un appello al governo Crocette e al Parlamento dell'Isola per chiedere la riforma della tabella H, dopo l'impugnativa da parte del Commissario dello Stato. Chiedono l'adozione di criteri certi e inequivocabili per l'assegnazione dei contributi al fine di introdurre trasparenza e meritocrazia nell'erogazione dei finanziamenti per le attività culturali e sociali. Noi abbiamo apprezzato molto l'azione del Commissario dello Stato che ha cancellato finalmente questa vergogna dove c'era di tutto, c'erano delle istituzioni, fondazioni di grande storia e tradizioni che operano fattivamente nel territorio per fare culture antimafia e invece altre che francamente sono soltanto delle botteghe clientelari. Facciamo Piazza Pulita e proponiamo in maniera molto semplice di recepire la legge nazionale sugli istituti culturali una legge del 96 che si può applicare subito in Sicilia, che ha dei criteri molto precisi e puntuali per chi deve davvero avere un sostegno da parte del pubblico per le proprie attività. Le 18 associazioni chiedono inoltre alle istituzioni dell'isola la reintroduzione delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale del 1999 sull'iniziativa antimafia, abrogato nel 2003. La legge regionale numero 20 del 1999, l'articolo 16 che aveva istituito l'albo dei comitati e delle fondazioni che fanno attività antimafia. Questo articolo purtroppo nel 2003 è stato cancellato, mai applicato, lo riproponiamo anche per dare dei criteri a chi fa questa attività nel territorio, ovviamente distinguendo tra chi fa attività culturale, attività antimafia e tutto il resto che era contenuto nella tabella H che deve seguire un suo diverso percorso legato agli assessorati di riferimento. Invece per queste associazioni a cui noi facciamo più riferimento, che si occupano di sociale, di attività culturali e di attività antimafia, dando dei criteri che vengono fuori dalle leggi nazionali e di quelle che era stato appunto un tentativo di innovazione del 1999 per quanto riguarda l'attività antimafia.